ma quello mi sta rompendo a me il cazzo via skype scrivendomi testualmente però in conversazione con qualche sgrillettata e può essere può essere perché quello lì che sarà in conversazione con qualche scammer può essere conoscendo il tipo me lo ricordo che ogni tanto mi chiamava pure a me me lo ricordo che la prima volta ci abbiamo parlato eravamo io te e lui tramite skype e che tu sotto mi mandavi le scritte e mi dicevi questo è un pellegrino della madonna me l'ho visto quando era andato a san pietroburgo quando era andato a san pietroburgo 2008 2009 non mi ricordo ma sai di questi pellegrini qui ne ho visti a frotte neanche a farmente locali io non me li ricordo più questi qua è normale le posso dire sai che c'è la rimozione quando è così uno così forte pellegrino c'è una parte di te che dici cazzo diciamo quello si è la repulsione automatica poi ne ho visti talmente tanti che mi posso ricordare magari il nome mi dice qualche cosa però dopo non riesco a fare mente locale e risalire su chi è questo pellegrino comunque visto che il servizio pellegrino no problem sta dando i suoi frutti perché vedo che ci sono già dei contatti uno come ha letto che ha visto anche il video interview e ha preso subito il ha prenotato subito il viaggio e infatti quello è buono quello è buono è buono così almeno no ma questi te l'ho detto questi vanno presi e vanno un po sistemati vanno un po sistemati per bene sì tanto anche perché questi qua se non hanno uno che li accudisce li cura gli spiega bene cosa devono fare questi qua è tutta gente che vanno a dare i soldi alle scammer senza concludere niente sì sì no ma infatti ma infatti ma non solo ma questi poi quelli che si farà che che cedono che in destra tutta la sgrillettata si trovano senza soldi e poi l'ambasciata gli dà i soldi per rendere a casa ah sì 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 per quello è il classico è quello lì che gli credono a tutte le stronzate che dice che non vanno a verificare quindi tipo quello che conosceva olivo che questo adesso è tornare ci ha avuto la faccia come il culo di tornare con la moglie questo poi mezzo del reggio calabria e mezzo e mezzo in mezzo di genova quindi provo ad aggiungere questo pellegrino quella conversazione per vedere cosa vuole sì che poi non si capisce mai infatti mi sta scrivendo siamo andati in discoteca e te mi hai lasciato con dei tipi che volevano che gli passassi la vodka sì sì questa me la ricordo io perché sentivo la conversazione con i tipi che passavano la vodka alla vodka o mai ha proprio sai che questo qua non me lo ricordo proprio chiaramente io come al solito ho fatto una mossa tatticissima l'ho messo insieme a qualche russo che voleva la vodka l'ho messo a fargli da sponsor a qualche russo è stato lo scontro fratti italia mi dispiace che non mi ricordo la scena ma poi c'è anche la foto nel profilo skype ma io mica me lo ricordo eh ma lo sai te lo sei rimosso mentalmente probabilmente se vado da uno un ipnotico che mi faccio ipnotizzare riesco a farmi tornare nella mente questi brutti ricordi sì e qui nel senso cose traumate eccolo eccolo ce l'abbiamo in linea ue ciao ehi mi senti sì sì ti sento ti sento ue ciao come stai tutto bene abbastanza dai abbastanza eh ma allora ho sentito adesso oh ma io sai che non mi ricordo proprio di te cioè mi hai scritto della vodka che ti ho lasciato con i russi a bere la vodka sì ma ormai vai adesso il microfono cazzo l'altra volta non andava mica il microfono no ma ti ricordo ti sento bene vai tranquillo che ti si sente sei in linea vabbè ci siamo incontrati tipo due tre anni fa lì a pietroburgo e niente era verso l'ultimo dell'anno e ci siamo incontrati vicino vicino alla nave ristorante ti ricordi oh io non mi ricordo c'ho proprio l'amnesia sai che anche dopo l'ambiente locale siamo andati siamo andati in discoteca lì niente abbiamo conosciuto dei tipi io ti ho sbolegnato insieme i tipi che volevano la vodka mi stavi scrivendo sì esatto te dopo sei andato in giro con una tipa dite mi hai lasciato questi tipi qua che volevano io ho recuperato una gnocca e sono andato via con la gnocca te tu ho lasciato con i russi che volevano la vodka sì esatto esatto beh quello è proprio classico sì 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 va bene dall'italiano e guardo non mi ricordo però io faccio sempre così di solito quando vado in giro con qualcuno io poi mi concentro sulla gnocca e dopo i pellegrini li sbologno con qualche russo che trovo in giro comunque ciò con me in linea anche domine dio alias catone e guarda se hai bisogno di qualche cosa puoi chiedeva lui perché lui è un po' l'esperto di tutto ha lavorato insieme adesso no no ma io faccio tutto un altro campo io mi occupo di compra vendita dei mobili diciamo questo e di turismo insomma vabbè ti sei trasferito lì però a daugaspill sì daugaspill sì sì ma sto qui a daugaspill sì esatto si basta irlanda adesso patrizio e io sì io ormai ho cambiato insomma quindi non è che ho cambiato insomma il business mi ha portato qui ecco cazzeggi dai no io sto in business quindi un po' contrate compravendita compravendita adesso lì in etonia eh sì compravendita di immobili qui ma lì i prezzi come stanno adesso e trovi da sete trovi dipende se lo vuoi sistemato 15 mila euro trovi sì però in cariferia no no su una buona zona zona il centro proprio forte della città ecco in centro città 15 mila sì poi entrano nell'euro nella zona aprono pure l'aeroporto se infatti mi dicevano tra le varie novità ci sono dei segnali che sta aprendo l'aeroporto proprio mi dicevano se apre l'aeroporto i prezzi schizzano moltiplicano subito per tre sì ti posso dire quindi ci sono grossi segnali che sta aprendo l'aeroporto io se sei interessato e vieni su a trovarmi io c'ho un appartamento questo sistema perché solito ce ne ho quattro cinque quindi se ti è interessato io faccio faccio dell'appartamento vieni insomma però per di è buono è buono non è che mi interesse cioè solo per sapere alla fine comunque 15 mila euro su un appartamento lì in centro città cioè a fine è poco cioè cos'è in 80 metri quadri medie cioè 15 mila euro è un cazzo fine eh sì lo so e qui i prezzi sono buoni non è che 15 mila euro non so un cazzo lo so ma qui è poi perché ti considera che i prezzi erano tipo sceso tanto erano sceso tanto lì in rettonia mi ricordo e ma poi adesso con l'entrata nell'euro con l'aeroporto che sta aprendo qui sono buone possibilità di un bel salto in avanti ecco quindi il prossimo ciclo tipo sfarà il prossimo ciclo l'ho già previsto io che si apre l'aeroporto domine dio diventa milionario anche solo metti che riesca a guadagnare 10 euro da ogni pellegrino che arriva perché gli fa il servizio gli da l'accommodation gli fa il servizio di accompagnamento gli fa tutti anche tutto quello che nell'ambito del pacchetto pellegrino no problem ma sai quanti ne arrivano se apre quale aeroporto qua diventa fanno il ponte aero direttamente con la sicilia con milano con bologna con roma arrivano qua frotti pellegrini ma devono aprire devono aprire tipo la raya nero allora ma se apre qui c'è già la raya nero nel bar è il posto più servito a riga a riga sì ma si apre la raya nero lo postano qui sicuramente quello centrale perché riga e decentrata invece d'augapis c'ha la linea diretta ferroviaria con san pietroburgo è vicinissimo praticamente da qui tu hai la linea diretta ferroviaria per la lettonia sulla verso riga sei vicino a vinius è proprio il centro sei attaccato alla dogana con la bielorussia c'è il diretto per mink da qua che a riga non c'è cioè qui è proprio strategico tant'è che per esempio il lab centrale della raya nero non è né a riga e tanto meno a vilnius e a caunas però caunas non è così strategico come perché caunas non ha il collegamento diretto ferroviario con minsk e non serve san pietroburgo perché la raya nero che punta e anche ad entrare nella sfera dei paesi come russia bielorussia dove non ce la fanno allora si fanno lo scalo direttamente attaccato alla dogana la gente può tranquillamente muoversi con la raya nera terra qui poi c'è il diretto che ti porta san pietroburgo a minsk dove cavolo devi andare poi se siccome qui è un centro nevralgico della gnocca perché detto chiaramente qui abbiamo bielorussia a 15 km di distanza la prima fermata ferroviaria arrivando dalla russia qui c'è alta comunità di polacchi ucraini qui ce la siamo attaccati al confine con la lituania un altro centro importantissimo nella sfera gnocca e siamo esattamente ametrata tra l'estonia e lituania poi senza contare che la lettonia è rinomata nel settore viaggi del pellegrino se qui apre l'aeroporto domine dio deve subito comprarti comprarsi un autobus di 50 posti e fare la staffetta andare in aeroporto prenderli tutti e sistemare negli appartamenti si si impiena di pellegrini pratica te l'immagine qua arrivi qui che sei l'unico lembo di terra russopida perché qui si parla solamente russo qui è proprio come essere russo però non hai bisogno del visto non hai bisogno di niente se qui apre l'aeroporto domine dio impazzisce deve comprarsi un autobus e mandarlo avanti indietro ma non ce la farebbe neanche a prendere tutti quelli che sbaccano ma in pratica date i servizi come facevi te lì quando eri a pietroburgo allora servizi noleggio servizi visita servizi affitto alloggi quelle cose lì sì servizi affitto ho ceduto ho ceduto la staffetta a domine dio infatti so io qui che gestisco la cosa alfitti alloggi arrivare a prendere le persone in aeroporto insomma tutto questo consulenza di investimento assistenza in casi vari ecco quindi poi aggiunto anche tutta una serie di pacchetti di servizio supplementari per il pellegrino perché c'è anche quello che la gnocca ce l'ha in russia e come fa a portarsi la gnocca a casa non è che la metti nel carrello e te la porti come a comprare qualcosa al supermercato lettonia abbastanza semplice ottenere il permesso di soggiorno perché ha provato adesso domine dio che lui sa benissimo tutta la procedura per la sua sgrillettata subito permesso di soggiorno quinquennale l'ha ottenuto in dieci giorni dal momento della richiesta figurati in italia c'è gente che fa la domanda gli danno il cedolino che ha presentato la domanda sta un anno solamente con la presentazione della domanda si si sono più lunghi qua in italia ma a fine sono sicuro che anche a lui gli hanno dato la carta d'identità e il passaporto lettone l'hanno l'hanno quasi naturalizzato lettone come hanno visto come hanno visto che è venuto qui ha chiesto perché qui tanta gente sta emigrando vanno via come come chiedi di arrivare qui di chiedere la residenza loro non gli sembra neanche vero per aggiustare il dato statistico ti danno qualsiasi documento per far figurare che c'è un minimo di immigrazione ti danno subito tutto visto che avete fatto tipo il servizio anche per i pensionati che non so fanno fatica a vivere qua allora magari trasfermo quello lì come funziona alla fine? come funziona? funziona una cosa molto semplice il pensionato ci contatta ci dice quanto sono quanto è il suo reddito preciso e poi in base alla situazione sia risparmio o meno in base alla situazione facciamo ad esempio il pensionato ha 600 euro al mese e ha un risparmio di mettiamo a un risparmio di 10.000 euro risparmio con 10.000 euro ritroviamo subito un appartamento io lo possiamo vendere anche ratezzato nel senso stabiliamo che paga 100 euro al mese e poi con altri 100 euro al mese noi gli troviamo l'abbadante che lavora squisitamente per lui l'idea clou della situazione è che l'abbadante praticamente veste esclusivamente vestitini erotici marcati playboy infatti i brillini sulle unghie vestito tigrato sì sì poi diciamo l'abbadante deve essere insomma selezionato fra le donne che sono abbastanza disponibili insomma ecco mica noi pensionati li trattiamo bene ecco ti hai chiamato parecchia gente per questo servizio qua questo servizio qua sì abbiamo già due o tre persone disponibili è partito da poco però ci stiamo qua sono pensionati, pellegrini oppure pensionati e pellegrini abbiamo due persone che sono pensionati e pellegrini anzi una persona che è un vedo, lì sono stati proprio diciamo i figli che ci hanno spedito perché sennò diceva che dava fastidio a tutte le bananti e poi ci abbiamo fatto tre pronto? pronto? sì adesso ti sento pronto? eh domine Dio guarda che non sei più in linea ti è caduta è caduta la connessione eh ti sarà caduta sì la connessione a dime va bene ma te avevi bisogno di qualche cosa? sì io volevo chiedere lì a te o alcune informazioni tipo non so se mi puoi dare tipo il numero, il contatto insomma guarda io solo il telefono ma mi ha detto mi ha detto di non darlo a nessuno il telefono guarda poi giusto giusto ma com'è che si chiama allo fine? com'è che si chiama? è un caso strano ieri sera però ti ha chiamato lui lui ti ha chiamato ieri sera proprio sì sì proprio mi ha chiamato lui proprio ieri sera tant'è che mi è anche venuto in mente la prima cosa che io ho detto ho detto guarda già che ci sei fa ho detto contatta questo qua perché ti sta cercando se riesci a contattarlo ho detto non hai skype così fa no no fa anzi se mi fai la cortesia di non dare il mio numero a nessuno puoi dire come si chiama allora? sì grazie a tutti ci si Grazie a tutti.